Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Stiamo iniziando un po' a caso e sono la peggioritura del mondo perché non ho filmato niente questo weekend e settimana scorsa ho saltato il video per cui devo rimediare. In questo momento mi trovo in uno degli hotel più belli di Milano, siamo al Gallia in centrale e questo è il guardaroba delle mie cugine. Le mie due cugine che vivono negli Stati Uniti sono venute a trovarci e praticamente non ci si vedeva da otto anni forse, troppo tempo. E ora siamo di ritorno da una giornata di shopping, stiamo facendo una piccola pausa prima di partire per altre avventure. La Miss, sempre presente, quella che non saluta mai, lei è Liliana e lei è Viorica, Lili e Vio. E sono due stragnocche come avrete potuto constatare da soli. Adesso volevamo fare un po' di unboxing insieme perché qui c'è un po' di shopping, luxury shopping, cose che solitamente non si sono ancora viste da queste parti. Quindi ne volevo un po' approfittare di questa occasione, ma vi faccio vedere anche la stanza che è stupenda. È una stanza bellissima e la vista è spettacolare, ovviamente, tutto sopra la stazione centrale. Lili ci delizierà con un po' di unboxing che farà per la prima volta nella sua vita, per la prima volta nel senso davanti alle telecamere. E qui indi ci sarà da l'ide un po'. Are you ready? Yes, where do I start? You start with the least favorite thing. Like, they are all beautiful and all things you love, but it's the least favorite one. Start with the sunglasses because the smallest one. Yeah, you start with the smallest one and you go all big in the end. All right, forfetto. Stupenda, sì. E siamo molto international, parliamo italiano, inglese, romeno, di tutto, russo, perché no? Perché no? È spagnolo, anche spagnolo, anche spagnolo, anche francese. È francese. Cos'hai qui? Cosa stiamo spacchettando? Spacchettando? Tra l'altro, lili che outfit sta indossando. What's your outfit of the day? Because it's amazing. Oh, thank you very much. It's an Australian designer. It's called Scalette Theodore. Wow. And I bought it in New York, yes. Lovely. Vi metterò la descrizione qua sotto, così potrete capire di cosa sta parlando. Allora, il primo acquisto sono un paio di occhiali e abbiamo dei bellissimi Prada. Sono bellissimi, stupendi, sono neri con questo dettaglio laterale bianco, sono veramente bellissimi, hanno anche il marchio ovviamente, sono stupendi, stanno benissimo anche a lei. E qui, allora, praticamente, quando parlano loro due, mi sembra di stare in una puntata di Kardashians. Più o meno questa è la situazione. Show us. Oh my God. I don't need my belt. I love them. Allora, next. Next. What do we have next? Cosa abbiamo poi? Cosa altro abbiamo? Dio. Do you want to unbox something? No, no, I can't use it. What's the next Prada? Or we are unboxing some Gucci? Let's go with Prada. Let's go with Prada. Oh my God, these are beautiful, these are beautiful because they will match perfectly with my outfit. That's great. Quindi abbiamo un secondo acquisto Prada. Che bella la scatola, bellissima, questo colore è stupendo, tra l'altro, il packaging, ragazzi, cioè, cosa possiamo dire? Spettacolare. Wow, allora, sono un paio di loafers, li possiamo chiamare loafers? Sì. Col tacco. Beige, però sono, sembrano un po', ecco, così il colore è più vero, però sono bellissimi, sono stupendi e tra l'altro morbidissimi. They're super comfortable. They're very comfortable, they're beautiful. The leather is really soft, è molto molto morbida, e sono davvero molto molto eleganti. Eleganti. Tra l'altro Prada fa anche i sandali, quelli tipo stile imbottiti così, e io li voglio. Quelli prima o poi li prendo, farò una follia. Ok. Tra l'altro, devo dire che hanno questo colore un po' beige, ma che, in base alla luce, sembra anche un po' verdino. E si adattano molto bene, con tanti colori. E perla. Il colore di perla. Perla. Come? Like your outfit. Yes, matches with my outfit. Ok. Ok. So. There's something else that also matches with my outfit. Everything matches with my outfit. That's the beauty of matching outfits. Matching outfits, nice. I always, when I shop, I always think about all the other things that I have, so I can match them with... That's a great idea. Only the dots are mine. Exactly. They are yours, but they match my outfit. Yes. All my outfits are mine. Lily stava dicendo che quando lei acquista una cosa, pensa a tutte le cose che ha già nel guardaroba e cerca di acquistare cose che vadano insieme con tutte le altre cose che lei ha già. E quindi, questi acquisti vanno insieme alle cose che lei possiede già. Peccato che in realtà sono sue. e quindi gli acquisti sono suoi, ma sono sorelle e praticamente la più grande, che è molto, molto furba, la convince a comprare cose che poi dice, se poi non le metti, le metto io, non ti preoccupare, non verranno sprecate. E mi sembra un ottimo suggerimento per tutti. Approfittate delle vostre sorelle perché è un'ottima cosa. What do we have here? What do? Well, so, what do we have here? We have beautiful loafers. Oh wow, I'm gonna love this. Io probabilmente adesso perderò la testa perché io adoro i mocassini Gucci. e... Let's see that. Adoro lo mocassini. Oh wow, spectacular. Beautiful with my outfit. Perfect. Sono bellissimi, sono color crema e hanno questo dettaglio blu e rosso, classico Gucci. Wow. Yes, and you can tell your channel that my sister and I, we have such a connection that sometimes when we shop, we buy the same things without knowing that we bought the same thing. Wow. And this one, who bought for whom? Via. Via for Via. Via bought for herself and I like them very much. So when she's done wearing them, I will take them for a second life. Great idea. Sono bellissimi, cioè, sono veramente meravigliosi. Anche se io devo ammettere che preferisco più quelli chiusi dietro, però questi sono bellissimi, perfetti per l'estate, perché sono aperti e quindi non muori di caldo. Ci muore lo stesso ma non troppo. Facciamo finta che vadano bene per l'estate, però la moda richiede sacrificio, lo sappiamo già. So, what do we have next? Via. You don't want to unbox anything? No, I'm busy with writing a metaphor. For someone really special. Yes, for someone really special. Let's stay with Gucci. Let's stay with Gucci, what do we have next? Cosa abbiamo poi? Okay, next we have... Ma la sexitude di questa ragazza. They are not ready for this. They are not ready for such a sexy lady on my channel. This is the content they deserve. The content they deserve. Vi stiamo facendo vedere un po' di Kardashian, scusate. Deviazione, ma abituatevici, perché forse diventerà una cosa più comune da queste parti. Cosa abbiamo? Cosa abbiamo poi? Let's take a look. Let's take a look. Ma poi, che bello anche questo, la cover dell'acquisto. Wow! Un portabiti davvero bellissimo e molto molto pratico. We like to be very comfortable in the United States, so. Wow! Pantalone, un pigiama. But it's not actually a pigiama. It's a silk pigiama. Silk pigiama. But it's for going out, actually. Yes. Quindi sono dei pantaloni stile pigiama in seta. Perché loro adorano indossare cose comode. E in vista dell'estate, sono perfetti direi perché sono leggeri, molto flowy e uno stile molto molto estivo. Non necessariamente la cosa che indosserei io, però riesco ad apprezzarli. Questo è il discorso che avevo già fatto da queste parti una volta. Praticamente, se devo parlare di brand di lusso, quando si tratta di Gucci, preferisco più le scarpe, le borse, le cinture, ma non l'abbigliamento. Un po' più complicato per me. Preferisco tipo più Dior o Chanel. Si può notare anche da questo, perché sono più nel mio stile, però riesco ad apprezzare anche cose che non sono molto nel mio stile. Non vedo l'ora di aprire questo. Questo contiene una cosa davvero molto molto bella. Next up! And I think this is the last one. Unfortunately. But we have other things to show them. Yes. We will show them. We will show them our closet. All your closet. All your bags. We will show them everything. Allora, cosa abbiamo, signorina? In USA, c'è molto freddo. Come si diceva? C'è molto freddo. In Boston, Massachusetts, c'è molto freddo. Ok, in Boston, Massachusetts, fa molto freddo. Molto freddo. E hanno bisogno di giacche molto calde in inverno, però. In the winter time. In the fall and winter. Fall and winter. Yes. And it has to be very comfortable. Ok. Number one. As for everything else, it has to be comfortable. As for everything else, it has to be very comfortable. But not for shoes, because you put some uncomfortable shoes on and you go on long walks and you come back home like with blisters. Not shoes. Shoes are not included in the comfort. So let's see. Vediamo cosa c'è lì dentro. Wow, c'è una giacca stupenda. Io l'ho già vista, ovviamente, perché ero con loro quando l'hanno acquistata. Ma è veramente spettacolare. Is this way? È una giacca invernale in camoscio e lana. Però è veramente molto molto bella. È una giacca stile tipo avviatore, però in camoscio. And show me the back, because it's really beautiful. Back? Yeah. E dietro c'è questa scritta. But anyways, it's like a beautiful detail on the back. Yes, it's amazing. And it's really comfortable and really warm. È veramente bellissimo. And... E poi abbiamo... Something very, very, very... Very Dior. Qualcosa... Every day. Ecco, una cosa da tutti i giorni. Da tutti i giorni, una magliettina Dior. Con la scritta, ovviamente, perché se no, non va bene. Brand ovunque. Questo è lo shopping, però, volevo farvi vedere la borsa dei sogni. La mia borsa dei sogni. Che è ovviamente... Oh, Dior. Ed è la Lady... Lady Dior. No, Diana. Yeah, Lady Diana. They made us for her. Oh, right. So, it's Lady... Dior. No, Diana. Dior Lady Mini. Colore... No, mean... Small. Colore top. Colore top. È bellissima. È la mia... È inscritto. È la mia borsetta preferita di Dior. È inscritto. Leliana. Of course. E ha anche l'iniziale di mia cugina, che è Lily D. Bellissima. Poi, abbiamo... What's the brand of this bag? Because I already saw this one. Why itself? You guys don't have it here? That one I know, but this one... What's Amazon.com? Because I saw it on Lydia's channel. She has it. Lydia Millen ce l'ha. Questo Amazon. Perfetto. E poi abbiamo insieme qui anche una Yves Saint Laurent. Bellissima. Anche questa è una delle mie preferite, perché ovviamente siamo cugine, quindi amiamo più o meno le stesse cose. E questa Yves Saint Laurent è una delle mie preferite. Basta, cos'è? Che cosa... Ah, no. Un'altra borsa che adoro. Abbiamo... Questa è la Metis, no? Metis. I started. Quindi abbiamo una Louis Vuitton Metis. E anche questa è la terza borsa preferita. Quindi, nell'ordine, prima borsa preferita, seconda la Yves Saint Laurent nera e la terza è questa. Quindi, un giorno quando le buttano. Esatto. E poi abbiamo anche la cintura. Sono molto brandizzate le nostre ragazze. hanno tutto abbinato e poi c'è anche la tote bag. Beh, diciamo che sono partite tipo per quattro giorni, ma si sono portate dietro una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette borse. Secondo me ne manca qualcuna. Quanti gente ha detto? E poi hanno anche portato un intero guardaroba, quindi, ok. Quando parto io per quattro giorni cerco di mettere dentro il più possibile nella valigia a mano. loro sono portate la casa dietro, ma bisogna imparare. Bisogna imparare da loro perché bisogna creare tutto il contesto. Bisogna crearsi il mood giusto e vivere la vita che ci meritiamo tutti quanti. perché se non te la creda solo, nessuno lo farà per te. Questo è il mood con cui vi voglio lasciare. Poi adesso magari ci vediamo dopo. Però intanto è tutto dal Gallia Excelsior Hotel. E spero abbiate apprezzato questo unboxing un po' fuori dalle righe, ma che un giorno diventerà dentro le righe anche qui. Say goodbye! Goodbye! Ciao ciao! Non sono bellissime? Cioè, com'è possibile che sono così belle? Le adoro! Nel frattempo la giornata si sta concludendo. Abbiamo fatto i nostri giri, siamo andati a fare una visita super importante. Ora c'è il delirio in giro perché sembra che il Milan abbia vinto. Non so cosa è successo, non l'abbiamo capito, solo che il Milan, tutti quelli del Milan stanno andando fuori di matto. Siamo a cena da Mama It, che è un altro dei miei ristoranti preferiti e non vediamo l'ora di mangiare. Direi che questo video così, caso, finisce qui. Ci vediamo nel prossimo video, che tornerà un po' alla solita routine, ma magari non troppo. vedremo, vedremo in base al mondo. Io comunque vi saluto, vi mando un mega abbraccio di Ventesco e alla prossima. Ciao!